Viva arte, viva arte, viva arte, è come una canzone, è un po' come una maniera di dire la mia passione per l'arte, per gli artisti, è un spazio di libertà e di piacere anche per me, che è una parte della mia vita. Non è un tema, viva arte, viva arte, viva, è più un prologo a una mostra che si svilupperà in varie direzioni. Quindi inizierà con il padiglione degli artisti e dei libri, che sarà concentrata sulle pratiche d'artisti e poi si svilupperà come una gradazione, un viaggio tra le opere, dalla parte la più intima dell'artista a dimensioni più speculative, come il tempo. C'è una differenza tra la contemporaneità delle cose e la recente, o diciamo anche la moda. La contemporaneità vuole dire che ha un senso con il tempo presente. Per me è importante non di chiedere se c'è una novità, perché la novità è una cosa che dipende del momento e forse non sarà una novità domani e di chiedere se c'è una profondità, un senso con la contemporaneità. che può essere di un artista molto giovanile o di un artista più maturo e forse anche di uno morto, che aveva avuto un'intuizione nel tempo contemporaneo. È un'esperienza. Il humanesimo è la maniera in cui l'abbiamo conosciuto nella nostra educazione, diciamo, occidentale. Era una cosa nata con il rianescimento, poi che il ventesimo secolo ha messo in rovina e ancora più oggi. Spero che sia una strada nell'arte e anche nella società per sviluppare qualcosa che io chiamo il nuovo immunismo, che sia legato alla persona umana. È una cosa su cui dobbiamo lavorare, quali sarebbero le cose da costruire in comune, quali sarebbero le cose da proteggere nella nostra cultura. È necessario che gli artisti siano presenti sulla scena, diciamo, intellettuale, perché hanno qualcosa da dire per noi, per la società. È importante per me di fare vedere il mondo dell'artista e quindi la biblioteca è una parte di questa riflessione. Ho pensato a questo famoso libro di Walter Benjamin, che si chiama La mia biblioteca, è che è una collezione di libri, solamente i libri che aveva letto. E ho pensato, questo è bello, perché condividere dei libri con una persona è già un po' come se esiste un legame tra le menti. E ho pensato, se io ho chiesto agli artisti di fare una lista dei libri preferiti, dice qualcosa già del mondo dell'artista. È una ricerca che fa parte della mia vita, di incontrare artisti, di fare scelte. E ci sono alcuni con cui ho già lavorato, che fanno parte del mio ponteone personale. Per esempio, Vemouins, a cui vivo molto, perché era uno, diciamo, un po' nel stile dell'intellettuale del passato, ma con un'immaginazione pazzesca. E' una questione che mi interessa anche nella mostra, questa questione del tempo che abbiamo per pensare. Se siamo troppo avvicinati a questo tempo iper-istantaneo, penso che c'è un cambiamento anche nel cervello urbano che riguarda la connessione neuronale. la possibilità di dare attenzione alle cose e che disturba anche in un modo la percezione della realtà, che dà anche una nuova possibilità di informazione incredibile, ma anche di manipolazione dell'informazione di noi.